I padroni del mondo fanno uso costante di ketamina, LSD, funghi allucinogeni e molte altre sostanze psicotrope. Questa non è la stramba idea di qualche pazzo della rete, ma è il risultato di un'inchiesta approfondita condotta dal Wall Street Journal. Il giornale americano ci consegna così un quadro piuttosto inquietante dei profili psicologici di alcune tra le persone più facoltose del mondo e che spesso operano nel campo delle nuove tecnologie. Funghi allucinogeni, LSD e ketamina, le droghe che alimentano la Silicon Valley. L'utilizzo spregiudicato di queste droghe sarebbe infatti localizzato proprio nel tempio della cosiddetta innovazione mondiale, la Silicon Valley, quell'area del sud della California che ospita le principali multinazionali e start-up specializzate nella tecnologia. E infatti i primi nomi che emergono dall'inchiesta del Wall Street Journal sono quelli di Sergey Brin, fondatore di Google, e Elon Musk, fondatore di Tesla e attuale proprietario di Twitter. Il primo viene presentato come consumatore abituale di funghi allucinogeni, sostanze psicotrope che alternano la visione della realtà, inducendo la percezione di elementi concretamente assenti. Si tratta del percorso più veloce per aprire la tua mente e vedere chiaramente di persona cosa sta succedendo, ha affermato Carl Goldfield, un ex consulente di diverse aziende della Silicon Valley, che ha così spiegato il motivo di questa diffusione dell'uso di sostanze psicotrope. Goldfield ha poi spiegato il principio del microdosaggio. L'utilizzo di queste sostanze verrebbe fatto a piccole dosi e solo l'esperienza soggettiva sarebbe in grado di comprendere quale possa essere il limite tra il cosiddetto utilizzo terapeutico e la dipendenza. In realtà, in merito al consumo di droghe del calibro di ketamina e LSD, a scopo terapeutico c'è ancora molto da scoprire, mentre l'inchiesta del Wall Street Journal parla di un utilizzo abituale che viene fatto senza supporto medico e soprattutto durante l'orario di lavoro. Secondo le testimonianze raccolte dal quotidiano americano, Elon Musk sarebbe invece un consumatore di ketamina, altra sostanza psicotropa, utilizzata in medicina come anestetico. Poco dopo la pubblicazione dell'articolo da parte del Wall Street Journal, Elon Musk ha pubblicato un tweet che non smentisce questa testimonianza, ma che anzi ribadisce come la ketamina possa essere un farmaco migliore di molti antidepressivi che vengono invece somministrati contro la depressione. Attualmente il tweet risulta essere stato cancellato. C'è poi la testimonianza di Spencer Shulem, amministratore delegato di una start-up specializzata nell'intelligenza artificiale, che ha ammesso di fare costante uso di microdosi di LSD, salvo poi aumentare le stesse dosi ogni tre mesi. L'utilizzo di queste sostanze psicotrope sarebbe arrivato ad un livello di diffusione tale da spingere i fruitori ad organizzare dei parti psichedelici. L'aperitivo del dopolavoro viene così rimpiazzato da feste a base delle droghe più svariate. Secondo il Wall Street Journal questi eventi vengono organizzati attraverso l'app di messaggistica Signal che garantisce la privacy degli utenti, mentre i partecipanti sono spesso obbligati a firmare un documento di segretezza, oltre al pagamento di un biglietto di accesso di svariate centinaia di dollari. Non sembra essere un caso che l'utilizzo di sostanze psicotrope sia diffuso tra chi sta lavorando sui progetti più innovativi di intelligenza artificiale. Sembra esserci tra queste persone la convinzione che l'essere umano sia totalmente imperfetto, ormai desueto per affrontare le sfide del futuro, e così il nostro organismo deve essere per forza spinto da sostanze psicotrope oppure direttamente sostituito dalle macchine.